Ma lei lo vuol fare il sindaco di Milano? Sì, ma la mia priorità è far ripartire tutta l'Italia, non solo Milano, ma dalla Casa Renzi. Io lo sfiderei anche domani mattina, sui fatti, sui progetti, sulle proposte, sulle cose da fare, perché questa è un'Italia che gira al contrario. È un'Italia, soprattutto, anche se se ne parla poco in televisione, che indaga e mette in galera i carabinieri e i commercianti che si difendono, e invece da una mano a ladari, i rapinatori e i delinquenti. Quindi non sono più disposto a tollerare questo e lo voglio fare a livello nazionale, non solo a livello milanese.